Rendo omaggio a te mio venerabile maestro sono giorni che c'è il buio intorno a me e solo il tuo sapere può fare luce sull'oscurità che mi circonda maestro ti prego illuminami Ma gli scontrini vanno nella carta o no? Perché per me questa è carta, si strappa Il mio cognato dice è carta chimica, non è che poi gli intossico la carta riciclata, non è che smettono di fare la carta Non è che si mettono a fare gli scontrini biodegradabili per davvero e così uno vuole vedere quello che ha speso e gli si squaglia lo scontrino in mano